L'autovelox di Agropoli è in regola. A comunicarlo è il primo cittadino Adamo Coppola in replica al senatore Castiello che è intervenuto sulla regolarità della sua installazione. Il senatore Franco Castiello è intervenuto due volte negli ultimi mesi rispetto al comune di Agropoli, a maggio scorso nel tentativo di scippo alla nostra città del commissariato di polizia di Stato per portarlo a ballo della Lucania. Adesso invece interviene a gamba tesa sull'autovelox di Agropoli invitando ad impugnare i verbali dinanzi al prefetto in quanto le contravvenzioni per il superamento del limite di velocità dovrebbero essere ritenute invalide in quanto l'installazione dell'autovelox è tuttora priva dell'autorizzazione dell'ANAS. Un senatore della Repubblica con a cuore gli interessi e la vita di tutti i cittadini dovrebbe intervenire su questioni delicate solo dopo aver appurato che quanto sostenuto corrisponde al vero, onde evitare di far circolare notizie imprecise che possano innescare false aspettative negli interlocutori. Dopo la vicenda del commissariato mi ritrovo, mio malgrado, a dover intervenire ancora una volta in merito a quanto asserito da Castiello facendo presente allo stesso che il comune di Agropoli relativamente all'autovelox è in possesso di tutte le autorizzazioni richieste per legge. Rispetta le prescrizioni previste dal codice della strada, dalla circolare Maroni e dalla circolare Minniti, dal decreto ministeriale 282-2017. Tuttavia, continua Coppola, per ragioni di verità, va chiarito che il dispositivo di rilevamento della velocità utilizzato dal comune di Agropoli, essendo collocato su via Togliatti in corrispondenza del chilometro 103 più 550, oltre la fascia di rispetto dalla sede stradale, non necessita di alcuna podromica autorizzazione né nulla osta da parte della società ANAS S.P.A. Sul punto va evidenziato che nel principio del rispetto della sicurezza stradale, nonché di leale collaborazione tra enti, il comune di Agropoli si è fatto carico di integrare a sue cure e spese i dispositivi di sicurezza esistenti sulla strada statale 18 attraverso la sostituzione del Garda Rail, posto in corrispondenza della progressiva chilometrica 103 più 550. In ordine alla segnaletica di scopo, si osserva che la stessa soddisfa pienamente le esigenze di legge in ordine alla visibilità, al numero, alla distanza e quant'altro previsto dalla indicata normativa. Da un senatore della Repubblica mi aspetterei iniziative finalizzate a perseguire i medesimi obiettivi di sicurezza della circolazione stradale, attraverso la continua ed incessante attività di stimolo al competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, finalizzato a dare adeguato sostegno economico per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da praticarsi sulla indicata strada. Altresì va evidenziato, come ho già fatto in altre sedi istituzionali, continua Coppola, che sulla strada statale 18 si continua a morire rilevando che ciò purtroppo accade prima e dopo il comune di Agropoli, ove non esistono dispositivi di controllo elettronico della velocità.